Non credo che avremo una seconda possibilità. Lo facciamo e salviamo i viaggiatori. Non lo facciamo e i Vex conquisteranno i nostri mondi. Comunque vadano le cose. Non rimpiango nulla. Ok, l'occhio del guardia porta è ancora carico. Raggiungiamo l'ingresso. Raggiungiamo l'ingresso. Raggiungiamo l'ingresso. Grazie a tutti. 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 Devo solo violare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.